Pellicola nuova Sì, pellicola che per filmare il come Per filmare Pellicola nuova che non ha mai usato nessuno È intatta? È vergine Regalo a compleanno a Lucia prima, ciao! Mi rendo conto che probabilmente c'è del gusto a usare cose che hanno usato altri Non so, però la vorrei più integra, vergine Beccolo, beccolo Eccolo lì Vedete dentro, guarda, guarda, guarda Stattatura, eh? L'abbiamo ripreso tanto oggi Regalo a compleanno a Lucia Seconda, ciao! Socialmente, vergine Una pellicola socialmente in tutti i sensi, vergine Nooo, 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 dai! E io ero molto ispirato da Charlie Parker, che quando incise Lover Man, prima di farlo, si alterò e ottenne dei suoni bellissimi, penso. Regalo, compleanno a Lucia, terza, ciak! Siamo qui per celebrare il compleanno di Lucia, che è il settimo mese, e questo regalo che gli ho fatto, perché nel tempo si vedrà quanto gli piacerà. Buona Oswald. Chissà se era Oswald, poi con lo zoom potevo sapere se era Oswald. Oggi 5 febbraio, data storica, le Brigate Rossellini, da me rappresentate e autofilmantesi, si riprendono nel primo attacco al cuore dell'economia. Questo messaggio è per te, io ho deciso di andarmene Paolo, per sempre, è venuta a prendermi mia madre, questa volta è veramente la volta definitiva, ce ne andiamo in campagna. Tu dovevi sposare me, invece hai sposato la cinepresa. E hai sbagliato anche le luci. Io adesso penso che... Bene, oggi colpirò con la mia cinepresa il cuore del sistema. Lo colpirò completamente. Sentiranno parlare di me. Fatto. 41. 41. Buono. L'ho bendato. Qui qualcosa è già successo. Nel M2C1X. Qualcos'altro succede. E io sono qui, pronti. Un po' Materialista. Penalo 2 23. 27. 28. 28. 30.